C'è un'emozione e questa emozione l'ho trasferita attraverso la macchina fotografica che peraltro è soltanto un mezzo, però quello che importa è nella testa insomma, è il momento. Un viaggio attorno al mondo per raccontare luoghi e persone ma anche emozioni sono gli scatti di Lorenzo Mazzeschi in mostra nella sede del fotoclub La Chimera. 20 le foto in esposizione per la personale di uno dei soci storici del fotoclub. Occorre sempre trovare il momento e lo stato d'animo, è importante captare, riuscire, tentare di captare questo momento per poter manifestare una determinata cosa. Tra l'altro abbiamo visto anche momenti che tutto il mondo ricorda, tipo la caduta del muro di Berlino. Certo, per la caduta di Berlino è stata una giornata meravigliosa, c'erano un milione di persone e è stato emozionante. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 6 gennaio nella sede del fotoclub sotto le loggie Vasari in Piazza Grande.